Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo soul power, nell'era della luce dell'anima non saranno mai abbastanza le parole sufficienti a descrivere l'importanza di soul power e l'importanza di utilizzare, riconoscere prima e utilizzare il potere dell'anima nell'era in cui soul over matter, cioè l'anima è sopra ogni cosa, tante saranno le benedizioni se utilizziamo soul power oggi utilizziamo soul power, i quattro poteri per stimolare le cellule cerebrali, quindi per aumentare il potere della mente, utilizzeremo una posizione del corpo, la visualizzazione, il potere del suono e utilizzeremo anche il potere dell'anima cominciamo subito con il potere dell'anima, ci rivolgiamo direttamente alle nostre cellule cerebrali, l'anima è ovunque in ogni cosa e quindi noi possiamo sempre creare un dialogo diretto cari, cari, cari 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 car vedere subito la posizione del corpo, utilizzeremo la tecnica mano vicino, mano lontano, una mano vicina e una mano lontana per creare quindi due campi energetici e quindi una stimolazione sulle nostre cellule cerebrali e poi utilizzeremo il potere del suono, quindi un suono che fa vibrare le cellule cerebrali, quindi la parte alta, utilizzeremo il suono cinese 1 e quindi e con la visualizzazione, quindi il potere della mente invece andremo a visualizzare la vibrazione delle cellule, in che modo? Cellule che si contraggono e si espandono, tutte le cellule respirano, quando si contraggono è perché quindi vanno ad espirare, quando si espandono invece ispirano, quindi si espandono e ispirano, si contraggono quando ispirano e buttano fuori materie e trasformano energia, quando invece ispirano si espandono perché prendono materie e la trasformano in energia. Andiamo a visualizzare quindi la contrazione delle cellule cerebrali, abbiamo già rivolto la nostra invocazione attraverso il potere dell'anima alle cellule cerebrali, utilizziamo la posizione mano vicina e mano lontana e adesso il mantra, il numero 9 che stimola le cellule cerebrali in cinese è i. sentite come vibrano sulla testa e lasciamo andare ora le braccia, vedete come è soltanto un minuto di vibrazione, quindi ci ha fatto sentire il potere di questa tecnica importante che vi invito a praticare per almeno cinque minuti, più la si pratica e meglio e prima si ottengono i benefici, pratica importantissima per l'espansione del potere della mente, noi sappiamo che utilizziamo solamente il 10% dei 15 miliardi di cellule cerebrali e allora andiamo a praticare con costanza l'esercizio questo Power ci mette a disposizione per il benessere e la vitalità e la salute di tutti perché quando si espande la mente, la mente è in grado, e lo vediamo attraverso la visualizzazione di creare quindi e di visualizzare una situazione migliore per noi, quindi una situazione in salute della mentalità e dell'energia, noi ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life, grazie, 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 grazie. Grazie.